Benvenuti in un nuovo video! Finalmente siamo ritornati con un nuovo video unboxing Lei è tutta legata, tutta sistemata Io no Però una novità che non vi ho fatto ancora vedere Tadà! Mi sono tagliata i capelli Non ci fate caso perché non ho passato la piazza Pensano un po' così Comunque io direi di scartare la box di Degusta Box del mese di ottobre Perché poi il prossimo, chissà, arriverà anche il calendario dell'avvento sicuramente E lo scarteremo perché alla fine comunque quando noi ve lo metteremo Voi comunque non potete più acquistarlo Perché è fino ad ottobre Cioè chi adesso vuole lo prende e lo acquista Però dopo una volta visto non ci sarà più Ma lo hanno sempre fatto così Pronti? Pronti? Vai! È molto leggera questa box Ricordo la scorsa Era più tante Ah vi voglio anche ricordare Che potete soffrire di uno sconto Ma vi scrivo tutto ovviamente nei commenti Almeno che rilezzete tranquilli e schimati Vai! Non guardare dentro Vai! Butta 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 Mmm! Girella motta Granella Deliziosa granella di nocciola Ricoperto di goloso Cacao Mi ispiravano E qui da me non sono ancora arrivate Wow Iniziamo bene Però stessi meglio Anche perché questo mese eseguiranno tanti video assaggiano Allora Sempre una novità di Snacks Green Pea Pidelli Abbiamo già provato qualcosina di questo marchio Sì Snack al gusto di vegetali e spezie Interessante Interessante Fatte tipo Paff Tipo Paff Esatto Ok Dai va Questa l'abbiamo già provato Guarda quanto è strana Open here Che cos'è? Sempre avena merendina Bevanda al cacao Uuuu Ma che cosa strana Cosa si fa Ah ok Che carina Però posso dire una cosa scusami Se questo si solleva Poi lo devo mettere nel bicchiere così Che sta a contatto Sì ho la canuccia Tipo Ma non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Non è tanto pratico Da portare tipo in giro No infatti Anche perché Genicamente Ok che carina Però Carino Sì sì Non è carino Però Quante? 100 135 Però considera che quando apri Devi buttare subito nel bicchiere Chissà com'è Che poi se tocca qua Comunque l'hanno toccato tutti Che il cartone Vabbè Vabbè Comunque è molto carino Abbiamo già provato la bevanda Pure quella lì Che si doveva comporre con l'acqua Che mamma ci mise l'acqua frizzante Lasciamo stare Comunque è carino Bella Andiamo Pensavo peggio Questa è una barretta Ritter Sports Beh ragazzi Iniziamo Caramello salato Questa secondo me Ho grandi aspettative Direi che settimana prossima Abbiamo tanto materiale da registrare Quindi mettetevi comodi Ce ne sono altre La prendo subito Vai Caffè Crispy Che già abbiamo provato Che era la tua preferita Era solo caffè però Non c'aveva un aggiunto cornflakes Ah ok Quindi Quest'altra qui E quest'altra versione No vabbè Io immagino Se volete uscirà sicuramente Qualc'altro litter Nel calendario dell'avvento Ho la tradizio Sì Sicuramente Poi Sento una cosa Incelopanata Un po' Un po' Un po' Oh è il macchio Devley Dressing citronette Per insalata di mare Guarda qui il pepe Con limone Questa è la stessa marchio Della maionese Ammani sarà molto felice Facciamolo vedere Molto liquida però E quella si mette sopra Tipo Questo con i crostini Speravo Roberto Ma questi già li abbiamo provati Però Ma sono le cose del marchio Roberto Lo sai? No Dobbiamo andare a vedere Che marchio era Ti lo ricordo Sì 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 L'abbiamo provati Che era la confezione nera Quella là tipo in plastica Brava Ed era Ti dico io Forse novembre Dell'anno scorso Perché stavamo a casa Può essere Sì Mi ricordo questa scena Sì 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 Confezione riciclabile Per due Due confezioni Due confezioni dentro Ah sì perché c'è il sacchettino Ok No vabbè Ma il pecco quanto è bello È proprio bello Questi erano molto buoni Vediamo pure se Questo marchio È valido Cioè sono buoni Il marchio Roberto Alpe lieve Alpe lieve Toffi Non ho mai saputo pronunciare Toffi soft Quindi latte Caramello Queste cose qua Sono molto Molto Velocine Ce ne sa un altro Noi l'abbiamo provato No Ora ciò Con cuore di latte Questo pure lo volete Prendere Non ce l'ho mai trovato 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 Anche se ho preso Oggi sono stata Al supermercato Ho preso i buyless Cioè i crispy Al buyless Delle patatine Al pollo Quindi Sette Wow No raga Adoro Cioè c'è la parte Di biscotto Ovviamente L'oro saiva E poi c'è proprio Una tavoletta Con il latte Ma tu immagini Con l'operazione Oro saiva kinder Ma è senza Succedere Ma Ma ci sono altri I miei prodotti Pasta Felicia Mezzi rigatoni Avena Con farina di avena Integrale Senza glutine Senza glutine Senza glutine Lo sai come la proverei Mi è venuta tipo In mente O con un po' di panna Oppure con Domenica poi stiamo a casa da sola Da sola Invece ti facci qualcosa di Oppure mi fai una bella carbonara E ci metti questa pasta Non ci pensare proprio Oh Succo Succo 100% frutta La nettarina Con pesca E nettarina Di Romagna E GP Quindi Bello Dai Posso dire che questa box È stata molto ricca Pensavo Nel senso Non avevo altri aspettativi Invece Molte novità Ah c'è ancora il calendario Ok La gravi ricordo Ancora il calendario Dell'avvento disponibile Andate sul sito È meraviglioso Quest'anno abbiamo qualcosa Di nuovo per voi Trovate un gioco Sul retro del calendario Dell'avvento Per una serata Memorabile in famiglia La vigilia di Natale Ah c'è un gioco dentro Oh che bello Questi qua Della yoga Ci sono in tantissimi gusti Ma proprio Tanti 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 Il prodotto del mese È proprio il succo yoga 100% 2,50 euro Poi Loro shock 2,19 euro Il Snuts sarebbe I puff Pizella 1,99 Girella motta 3,29 La bevanda 1,59 All'avena Cacao Poi Roberto Torini Si rosa 1,59 Le caramelle Toffi 1,99 Devley 2,09 L'altro invece Dressing lime Soia E poi pasta E poi pasta felicia 3,09 E cosa hai dimenticato? Cosa ho dimenticato? I Ritter Sports 1,49 Ciascuno Ok Io devo dire una verità Molto fiera Sì 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 Perché dopo selezioniamo un attimo i video assaggio Perché settimana prossima come minimo 3 o 4 Dobbiamo registrare Ripartiamo Un po' la settimana particolare questa Quindi tra impegni e cose Non abbiamo avuto proprio tempo di fare niente E quindi nulla Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao